Madonna, aia aia Che ti succede? Come che mi succede? Ieri sono andato al dentista Ah già, me lo avevi accennato Due denti ho tirato, cent'euro cinquanta euro al dente Ma che... Scusa, non mi avevi detto che avevi un solo dente da tirare? Sì, era un solo dente Ma c'è un dentista che non aveva un resto e mi ha levato due denti Capito? Sì, non ci ho reso Ma te l'ho goduta, che stiamo La capa da tanto Mamma faccio male Che poi sto male Per colpa di quella cretina della mia compagna Ci siamo lasciati Noi avevamo l'abitudine di andare nei weekend Sì, me lo dicevi Insieme, negli hotel, negli alberghi Facevamo questi weekend insieme E ci piaceva così Una cosa nostra Portarci come souvenir a casa Le saponette Ah sì, più di uno lo fa Era una cosa nostra Mia e sua Una sera ho detto Beh, ci mettiamo a contare le saponette E poi mi ha cominciato a contare Io ne contavo 25 E credo 45 20 di più Sì E io ho detto Scusa come ti ha 45 saponette Lei mi ha detto Nella storia Non lo sai Che ci sono fatto Perché? Che ci sono fatto mangiare tutte le saponette Lei mi ha scritto E quello che accade È un bel bacino Il 지ò È un bel bacino È un bel bacino È il dino Io nonofra È un bel bacino Grazie.